Tutti ragazzi, io sono Wory e oggi vi spiegherò come lanciarci, come volare con la BMX giù dal Mont Cilial. Lancialo. Allora, per prima cosa dovrete selezionare una gara, adesso vi dirò il nome, un attimo, lancia giù il segnalatore che sburo, facciamo fumo, vai fumo, ok allora spingete start e andate sulla mappa, ah cazzo aspetta che ho la polizia, aspetta che chiamo l'estero. Allora, ok, spingete start, andate sulla mappa e qui su ci sarà una gara in bici, vedete questa? Che adesso non mi ricordo il nome, ecco, picco prestazionale, va bene, fate X, inizia attività. Adesso siamo, un attimo che mi sono scordata di dire che oggi come ospite abbiamo Claudio, aspetta un attimo Claudio che metto una cosa, poi dopo ti faccio salutare anche a te, aspetta un attimo, mi ero scordato, ok, aspetta, mi do io in via quando salutare che mi ero scordato di mettere questo, ok saluta, aspetta un attimo faccio un po' di più, ecco, allora, da punto a punto mettete bici, aspettate che tolgo la canzone perché mi fa cagare, ok, confermo impostazione e ora invitiamo il mio amico, un attimo che ho ruttato, salute, mi do il stato mentale, sono uno psicopatico, lo so, grazie, una volta entrato, allora, un attimo, ok, una volta entrato fate partire la partita, fate partire la partita, scopo di parole, e aspettate un attimo, confermo, e selezionate la BMX perché sennò non va il trucco, quindi ci vuole la BMX, poi fate continuo, pronti a giocare, ok, allora, adesso che siete qui su dovrete, aspettate un attimo, dovrete, un attimo che mi devo ricordare dove è la zona, ok, dovrete prendere questo checkpoint qui, da qui curvare a destra, salire qui su, oddio, ok, può salire qui su, un attimo, ok, e da qui andare qui giù, aspettate un attimo che mi devo ricordare dove è la città, ok, un attimo, laggiù, e lanciarvi giù, dovrete beccare la giusta posizione che ora non mi ricordo perfettamente qual è, ecco questa, e poi dovrete spingere così, guardate, inizierete a volare, oh cazzo, sono caduti giù, comunque quella lì è la giusta zona, adesso risponderete qui sopra e fate la stessa cosa, anche saltando da di qua, comunque saltando, una volta arrivati qui, aspettate un attimo, dovrete scendere da di qua, vi faccio vedere la strada più breve, scendete da di qua, andate di qua, scendete giù da di qua, e poi da qua, oh cazzo, oh cazzo, sono parto via, parto via, cazzo, e dovrete tenere premuto RB, mi sembra, sennò volate tutti, mi sembra, adesso vi faccio vedere, metto su la canzone, non mi ricordo quale, ma la metto su, e, aspetta, vi saluto, e vi saluto anche Claudio, Claudio saluta, ciao a tutti, e vi faccio vedere come volare, bella a tutti ragazzi! Ciao a tutti! P-P-P-E-Stro! P-P-P-Tro! P-P-P-P-P-P-E-Stro! Grazie a tutti. Grazie a tutti.